E adesso invece vi spiego come poter fare per i capelli scuri a posto di Natamomilla. Comunque lo shampoo si può utilizzare tranquillamente, non schiarisce i capelli, ma direttamente la tesana schiarisce i capelli scuri. Questo lo garantisco perché tende a dare una colorazione più chiara. Allora, io per capelli scuri e secchi vi consiglio un impacco di aceto di mele. Come dovete fare? Preparate l'aceto di mele sempre in un contenitore di vetro, diluito con acqua, un pennello sempre per la tinta, la pellicola che ho detto prima che dovete avvolgere i vostri capelli una volta che avete fatto questo impacco, per un'ora sempre. Resciacquate il tutto e passate non un balsamo, ma soltanto lo shampoo a base di Camomilla. Ci sono anche altri shampoo naturali, però io questo ve lo consiglio perché per i capelli secchi, secondo me, la Camomilla, poi lo vedrete nelle proprietà che vi descriverò, è molto più delicata. Questo è un consiglio che vi do io. Fatemi sapere questo trattamento, dopo un mese già dovete vedere i risultati. In tal caso proviamo un'altra soluzione. Un'altra cosa, non fate tinte, per chi fa tinte, non stressate il capello. Io personalmente uso l'ennè, voi dite l'ennè è una schiavitù, è vero, ve lo posso garantire, è una schiavitù perché poi è un casino per tognerlo, sono due ore di pausa, però vi posso dire quanto nutre il capello, voi non ve lo potete mai immaginare quanto è buono l'ennè. Per chi lo usa, io sono anni che uso l'ennè neutro, cioè quello che non fa colore, proprio per nutrire i miei capelli, faccio questo innè neutro che preparerò davanti a voi, naturalmente non me lo farò quel giorno perché già l'ho fatto, però lo preparerò davanti a voi e vi faccio vedere come faccio questa preparazione. L'ennè neutro è ottimo per i capelli, ma anche colorato perché li nutre in profondità, non solo vi dà colore, ma non danneggia il capello, anzi, oltre a nutrirli in profondità e ammorbidire il capello, non li fa cadere, li rinforza. Quindi io vi consiglio di abolire le tinte perché le tinte fanno male, non sapete che cosa contengono le tinte, togliete le proprie, datemi retta, è solo veleno, mettete l'ennè, provate l'ennè e fatemi sapere. Un bacio a tutte, ciao!